in Italia l'altezza media degli uomini è di un metro e sessantacinque le donne sognano per noi stature da attori americani e da campioni di pallacanestro ecco allora per farle contente Ali Suleiman, un gigante tripolino i suoi due metri e cinquantasette non costituiscono però un traguardo egli è ricoverato in una clinica di Roma dove i medici cercano di arrestare la sua crescita sproporzionata